Se volete acquistare crediti FIFA a basso prezzo, passate su fifacoin.com E con il codice GRANANAS avrete il 15% di sconto Ok, ci siamo, siamo pronti, tu ci sei, io ci sono Bella, ciao, come va? A noi tutto bene, a voi? Oggi sto in versione legale Io invece sto in versione capelli che non vogliono stare dove vogliono stare Dove devono stare soprattutto E quindi siamo oggi con un pack opening Ma ci sono, aspetta prima di cominciare Ci sono gli if della Coppa America, come vediamo qua E ci sono anche gli aggiornamenti del calcio mercato Tipo fa il cavo al Chelsea, 88 Minghe Non è bobo Ci sta anche che tira la Juve Vai avanti Intanto ci fanno cazzi perché comunque poi FIFA 15 andrà nel cazzo di cazzoletto E tanto non ci troveremo mai nessuno Olè, bello, bello, mi piace Noi che troviamo Cardoso, che è un altro che se n'è andato E' andato a giocare dove? In Russia, mi pare, mi ricordo Vai avanti così Oggi si schippano Lo vogliamo nero quest'uomo Paletta Paletta nero, mamma mia Quei capellini, ah, brutto Vai, vai, vai Vai Paulino, vai Paulino, vai, vai Di Natale Ecco, lo di Natale che ha fatto? Oh, me Io voglio Messi if, regà Io voglio Messi if Anch'io Io voglio me Atler Guarda che faccia ci hanno Reyes Reyes Guarda questo, sta strafatto Quanto cazzo è bianco? Questo, no, questo gli hanno sparato la luce in faccia quando gli hanno fatto la foto Ah, le soppre... Orecchiette con... Ancora ragazzi Quest'anni 70, Freddie Mercury No, la sopprezzata, regà, l'ha presa Orecchiette che ci metterà Eeeh Eeeh, eeeh, eeeh Canto di cazzo Ne ha aperti 5 lui, eh Quindi anch'io Sì, no, non lo so Quanto ne ha aperti Sì, sì, no, ve lo ho contati io Eeeh Beckham, no, Barkham Barkham Ecco uno che gioca a LOL Dragon Ball E' lui Ho visto la puntata 9 di Dragon Ball Super E' brutto Ah, pensi che si sa fare il cuoricino Pesantemente proprio Ooooooooh Sbam Ah, mata Oh Non ci fanno un cazzo Ho visto 85 e mezzo Se ho detto ma questo mai E' un po' di Maria che non ha saltato Dio Vai, 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 vai Messi, 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 Messi Messi, 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 Kaka Pogba Ah If Pogba Ma se Pogba va al Barcellona No, anta Diventa Q2 I coin Gundogan Che sta per andare al Milan Ooooooooh Olè 77 L'antro tra Shorras E che coglioni Perché Magari viene a Roma Magari Non ci viene, da Andiamo ad avvenire Un pacchetto Oro gratis E troveremo Magnificamente Lui Wellington Song 50 song Alaba Alaba Porta bene Aubameyang 95 Mostro Pokémon Prova il palettone Attenzione Rodriguez Che non è Non è Ames Tranquilli Non potrebbe essere Bello Sbam Ancora lui Però sta volta C.O.C Prima c'è la C.D.C Ah Vabbè C.O.C Può andare Può andare meglio Messi Sergei Sei Messi Silva Bussufa Silva Non vale niente 87 però Almeno Sì contento Aspetta Rifacciamo Silva Credibile 7000 Guarda quanto vale Ragazzi morì Silva Bamb Higuain Pitti Steck Hellenburg Incredibile Pitti Starry Il vale più starry In gioca Che singa Guarda Award Animo Award Bello Complimenti No voglio vedere Ma c'è sta un raro Buuuu Get rekt Io mi vergogno Sempre di piu LAM vale Incazzo Incazzo No però forse è un po' più desidoale Dai che si è buggata La volta buona Ecco La volta buona che troviamo è Rodríguez Sette mila Anche lui Questo è quello giusto Però 8000 Scusate Se avete meglio voi Spam Francky Funky Giagilka Ma che cazzo ci fai OOOH VANDICK Incredibile Alca Doppioni 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 Condogbiate L'Inter Incredibile E lui si 75 66 Velocità Porco 2 Non gli dà Devo Però forse vale Un po' di più No Deve correre anche FIFA OOOH Arango Gomis Gara Qualità Spam OOOH Ma che senti Ma come fa Un Cisla Man of the Match E' il contesto del Cine Non so però dai Isla Non ci posso credere Oddio Quanto vale Ma poi man of the Mamma mia Vale troppo Però rega Sto emozionato Perché non ho mai trovato Un man of the match In vita mia Sì ma L'unico Man of the match Di merda Che ho trovato Ragazzi Per questo pack opening È todo 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 Come sempre Abbiamo appuntamento All'unedì Con un nuovo pack opening E a domani Con un nuovo video Fantastico Non andiamo al mare Tutti due vampiri Dunque rega Vi ricordo che oggi Sto a riccione E quindi Quindi se mi beccate Per strada O la sera In qualche posto Ciao Scusami da bere E sono tutti Domani esce una sfida Particolare Yes Faremo i coglioni Con i palloncini Esatto Quindi vedetela A riccione Non è vero Ci chiedete Ciao Ciao